Prende e spara proprio vicino a noi Soldato nemico in arrivo! De nuovo ne facciamo Quindi a forza da scala un guangotto Operatore ostile Dice U avvio alleato in sormolo, avvio scansione radar Non so, perco Stanno sotto Attacco efficace Adesso è un'altra A presto A presto A presto Vediamo 5 Il punto Sì, è giusto Tutto e due? Sì, è giusto Sì, è giusto Sì, è giusto Levo te lo fa pure l'opaca ma è stata quasi Vediamo sta la caccia Vediamo che ci dice Ce li scegli tu, non faccio come ci sta Trova un po' Trova un po' l'evo Trova un po' l'evo Trova un po' l'evo Trova un po' l'evo Guardate qui Ehi, pozzo Do stiamo Shop Tacco Sì, riuscirai? Sì, è la scala Per lo ti Prova a scendere Ma non so Ma non so Se le nord ci è arrivato No, sta a scendere A te parlo Ancora una roca Avendo l'andana Alla gente davanti allo shop Cassi in arrivo Contratto aggiornato Nuovo obiettivo identificato Ma fa l'arma? Qua tremmo gente da qua? Sì, no? Dove lo shop? Vai, vai, copri un po' lo shop E se ci sta cacca di un'altra Eh, mi sembra di soldo Adesso di soldo lo shop E' volando No, non so 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 Allora Rimane Nel UH Qua Eh Vediamo Ci arriva Un lancio D'equipaggiamento Le si viste O BINS Eh, ci sento di sparare Com'è da che ne va che stavi C'è la parte che hanno avvi? No Andiamo al social Allora, vediamo che succede Allora, non mi caniscio Prossimo obiettivo localizzato Semi-automatiche Questa è perfetta E' merda andato Quasi c'è stato Contratto completato Tutte le casse di scorte trovate E' semi-automatico Vedo ci metto il caricatore Adesso per sparare una fila Now Pam 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 Che da velocità La C'è la vogliono da una taglia E togli Voglio che non va bene Bersaglio taglia disponibile Diamoci da fare Voi Se ne fosse una cosa Scopper Pertanto Non ce la faccio Mi sa Andiamo al polotto Non ce la faccio Perché non può guardare Allora Corretto Laggiù Prendiamolo Ma fa sa la taglia Perché sta in capito Scopper Davide Pallotti Ricognizione in avvicinamento Che cazzo Lì qua stanno qua sotto Meno me ne vissi uno di BOOM una a terra Mi puntano Una è morta Un fantasma Lì qua in alto Stanno qua a dretto Attenzione UAV in rientro forzato per fare il riformimento Frammentazione No è morta È a terra Grandi Andiamo all'uscioppia Gli odores e scuanda Tene lì coraggio a te Sì 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 Sto usciando adesso Allora Sì 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 Tengo il stand full A spalla Sì 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 Con la zona per il taglio E' rimasto Autoress E' Wabbing Ho buonanone Ho guardato il tempo Dele mangiare C'è un'altra Qualcuno vado a prenderlo Tegino avvi Tegino avvi Eh Tegino avvi Tegino Tegino avvi Tegino avvi Tegino avvi Tegino avvi Tegino avvi Bertano No no Chiste non era Viste se l'hanno fatto Ecco Tegino avvi Tegino avvi Arriva un lancio D'equipaggiamento Adani non ho fatto Da sinistra Prima fa andare Sì ma Ah lo so fatto Qua vicino annuscia Eh Io stimo S'ho fatto Qua Non c'è Chi sentiva La culo Gassi in movimento Nuova zona sicura Individuata Questa che non si potremmo fare Ah Sì ma si temere danno Eh Mettiamolo Mettiamolo Mettiamo Alla Tegino avvi Non si è sparato Perché chi ha poi Ha sparato Questo C'è chi Beggio Lui a terra Vedo un tiratore Finito Visto Vedo un tiratore Nemico a terra Grande voglio Grande Le nale Si è fatta Tutte tre coccetti Oltre tre Ma lì stengo Un quadro Mi Sto Va bene Il Dello Come si Chiama Lo Sis Te Ducazzi Mi Di Strano Mi Lo Mi Sparavo Tutte Ma prima Ce li Trovo Qua hanno rotto Ma questo è la Seffi Veloce No Questa è Seconda La seconda No Sì Bersaglio taglia Identificato Fatelo fuori I Andrò Sto Un Coppa Lui Andrò Sei Scema Che Sto Davido Io Siamo Un XM4 Come Metta La Lietta Qua Se Nel Spettacolo E Spettacolo Sacco Bellana Bellana prezzi delle stazioni di acquisto se mi serve c'è una stazione di acquisto U.A.V. nemico in volo non mi fa andare, non ce ne ho accorto dove sta? le vite palla sono sotto ancora vedo un tiratore ci sembra in mezzo ci sembra in mezzo questo è il punto di raduno facciamo attenzione anche questo qua 3 aspettiamo che la fai dentro la via U.A.V. nemico in volo U.A.V. nemico in volo U.A.V. nemico in volo a terra mi sparo una coppa station salto interminato prezzi tornati alla normalità occhio dove spari pendejo chi te ne tolgo? pingato pingato ma stu cazzo con la taglia ando sto? stai andando a mano che non è più basta mi sparo mi sparo che qualcuno la fai dentro la coppa adesso voglio qua bambino ho un contatto bambino quando? operatore ostile mi puntano mi puntano mi puntano non le tue carattina no a 3 le toglie no da non ci sembra ma sparata a 3 le damme il contratto scaduto abbiamo perso il bersaglio dove sto? andiamo 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 rubiamo allenato facendo giro a destra facendo giro a destra a destra coraggente non so, non so, non so, non so il quarto nemico si è così tra noi soldato dai mi rianimo, dai mi rianimo una faccia la trete, la dava una faccia la legge della bocca sei morto diamo di arrivo, spostamento nella zona sicura è morto mannaggia che io benvenuti nel gulag chi sopravvive con questa nuova bella che ha fatto da stare è morto è morto è morto è morto è morto è morto fai attenzione presto sarai lì preparati a combattere sei il prossimo eh va buono è morto è morto lei muro in posizione per capoietta sta facendo un giro no? porta a bangieli a bangieli a bangieli E' accoggiato per le feste, ti rispediamo alla base Non è ancora finita, il tuo team può pagare per farti uscire Non è ancora finita, non è ancora finita Non è ancora finita, non è ancora finita Non è ancora finita, non è ancora finita Non è ancora finita